Stanchi della vostra macchina a benzina, ora potete trasformarla in un'auto elettrica. Vogliono cambiare il mondo partendo da questa smart a cui hanno sostituito il motore a benzina con un motore elettrico. La loro filosofia è rendere le auto elettriche una realtà, trasformando quelle usate in macchine a emissione zero. Tutto è nato in Finlandia ma è la fondazione italiana iCarsNow.it che sta dando anima e corpo a questa incredibile eco-rivoluzione. Li abbiamo incontrati alla mostra stazione Futuro di Torino. Noi collaboriamo ad esempio con Energo Club che è una onlus che si occupa della riconversione del sistema energetico e stiamo formando quello che è un gruppo di acquisto di persone interessate all'auto elettrica, una city car, al minor prezzo possibile. Più sono gli iscritti al gruppo d'acquisto, più si abbattono i costi. 15.000 euro è il prezzo stimato per una city car elettrica con motore e batterie nuove di zecca, carrozzerie in ottime condizioni e omologazione. Un costo che è poco più della metà di quello delle utilitarie elettriche in commercio.